Sandale ai piedi, un pentolino in mano, ore ad aspettare nella speranza di ricevere una razione di cibo, cibo povero, razionato, che oggi c'è ma domani potrebbe non esserci. Sono i bambini di Gaza, palestinesi, che conoscono guerra e miseria. E anche dopo mesi di bombardamenti, le loro case distrutte, interi villaggi rasi al suolo, malnutrizione e malattie che dilagano secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio è quello di epidemie. Nella striscia la situazione è disperata, secondo fonti locali, almeno 10 bambini sono morti. per disidratazione e malnutrizione nell'ospedale di Kamal Advan. La situazione è terribile sia per tutte e due le parti, sia per gli israeliani che per i palestinesi. A Gaza in particolare ormai manca tutto, manca il cibo, manca l'acqua, manca l'assistenza medica. A Gaza City adesso nelle due centri d'accoglienza sta appunto il cibo che hanno a disposizione e sta affinendo, ma anche a Rafa la situazione al sud è molto complicata. Intanto anche oggi al valico di Rafa molto del materiale inviato per i profughi di Gaza viene fermato, tutto ciò che non è considerato dall'autorità di Israele un bene essenziale viene confiscato e non passa. Oggi Caritas Italiana ha assicurato il suo sostegno tecnico e finanziario agli operatori di Caritas Gerusalemme che da cinque mesi assistono la popolazione. Un aiuto concentrato in particolare nell'assistenza medica e psicologica e nella distribuzione di genere di prima necessità attraverso i centri operativi allestiti a Gaza City e a Rafa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.